Il ministro degli esteri, lavoriamo ma niente ricatti, è inaccettabile che il generale Haftar si dica disposto a far tornare in patria i nostri connazionali solo se gli restituiremo quattro scafisti? Attacco di Gasparri, riferisca in Parlamento stiamo lavorando per riaverli ma senza cedere ai ricatti la dichiarazione rilanciata dal ministro degli esteri italiano, il pentastellato Luigi Di Maio, proietta un'ombra scura sulla vicenda dei 18 marinai di due muto pescherecci di Mazzara del Vallo da tre mesi trattenuti in Libia nel corso di una diora digitale su Zoom, incontro al quale hanno partecipato circa 200 persone, Di Maio è infatti sbottato, è inaccettabile che Haftar dica che ce li ridà se noi gli restituiamo quattro scafisti una rivelazione che proietta l'ombra scura dei legami tra gli esponenti in lotta tra loro per la conquista del potere in una Libia in piena guerra civile e i trafficanti di esseri umani che portano ogni anno decine di migliaia di persone. Non si tratterebbe dunque di pagare un riscatto, come banalizzato dalle forze d'opposizione di destra, ma di andare proprio nella direzione che partiti come la Lega di Salvini o Fratelli d'Italia o certe frange di forza Italia come quella guidata da Maurizio Gasparri, non vorrebbero punto un bel rompicapo, insomma. E, in questi casi, la tensione, come le manifestazioni dei giorni scorsi persino sotto la casa di Mazzara del Vallo degli anziani genitori del Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, di certo non fanno bene eppure c'è chi continua a voler cercare la polemica politica a ogni costo su questa vicenda. Come ha sottolineato Di Maio durante l'incontro, c'è anche un altro problema ossia quello che i due motopescherecci sono andati in acqua e che noi in Italia da dieci anni sconsigliamo e sono finiti nelle mani di un autoproclamato governo e un'autoproclamata milizia ossia quella del generale libico Laftar, che dice che hanno violato la zona militare e ora sono in stato di fermo e Di Maio ha sottolineato di dirlo non per loro ma per i prossimi, perché è un'abitudine andare a pescare lì. Ed è un problema. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.